Oggi con Sidi Zengo siamo qui a manifestare di fronte al Palazzo della Regione Umbria contro l'incoerenza politica di Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria in quota Lega, dopo che la Presidente ha voluto tradire il patto delle famiglie, tradire il manifesto politico delle associazioni familiari firmato durante la sua campagna elettorale con cui ha promesso di contrastare il gender, di contrastare l'ideologia LGBT e l'agenda LGBT e oggi invece con finanziamenti pubblici patrocinia il Gay Pride Umbro. Per noi questo significa un tradimento, un tradimento verso Sidi Zengo, un tradimento verso tutte le famiglie che si erano fidate della sua promessa politica e l'hanno votata. Nella manifestazione di oggi abbiamo chiesto a Chiare Lettere che la Tesei ritorni indietro, rispetti i patti delle famiglie e ritiri subito il patrocinio dal Gay Pride in Umbria. Aspettiamo una risposta, l'aspettiamo in tanti e ricordiamoci che le famiglie non si dimenticano dei tradimenti politici, i nostri valori non possono essere calpestati, ricordiamo a Donatella Tesei e a tutto il partito della Lega che le famiglie ci si ricorderanno. Noi di Sidi Zengo ci ricorderemo.